Ciao a tutti, con questo video voglio inaugurare una nuova rubrica. Cosa ne penso di? È una rubrica nella quale tratterò diversi argomenti, ovviamente argomenti di varia natura, tecniche, scienze, pseudoscienze, in generale, di vari temi, ed esprimerò ovviamente il mio pensiero, la mia opinione, che naturalmente non voglio avere né l'arroganza né la presunzione di pensare che la mia opinione sia quella corretta, quella giusta, è soltanto la mia visione della realtà. D'altra parte la realtà è estremamente complessa, io credo che nessuno di noi può cogliere veramente la realtà per quello che è, possiamo soltanto avere delle interpretazioni della realtà, come direbbe la PNL, la mappa non è il territorio, possiamo avere delle mappe che per quanto precise possono essere, non saranno mai il territorio, anche perché la realtà è veramente frutto dell'esperienza soggettiva, quindi porto la mia esperienza soggettiva dal mio punto di vista, dalla mia opinione, che spero possa essere utile per stimolare, diciamo così, se non altro un approfondimento, una ricerca, perché se qualcuno non è d'accordo o ha una visione contraria, potrà confrontarla con quella che gli propongo io, se uno magari ha una visione simile può approfondire, insomma, l'obiettivo di questa rubrica è quella di dare nuovi stimoli di pensiero, mettere assieme diverse idee e avere un confronto, per cui è interessante, sarebbe interessante, che le persone, se conoscono il tema, se vogliono approfondire, lasciano dei commenti, delle considerazioni al di sotto dei video di questa rubrica, in modo tale da aprire un dibattito, un dibattito che potrebbe dare nuova consapevolezza e nuove conoscenze alle persone. Bene, per questo video è tutto, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così potrete ricevere le notifiche delle live, partecipare alle live e ottenere in diretta risposte alle vostre domande, questa volta sui temi che tratto ovviamente, e chattare con persone interessanti. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!